Quattro sirene appena sbarcate a Napoli Io non ho capito bene da dove venite voi precisamente Copernaglio Eh? Troppo bello, Gegé! Grazie, signora! Un tritone in vena di scappatelle Ho bisogno di respirare aria pulita Tu sei un tritone, non dovresti proprio sentire il bisogno di respirare aria E se ti faccio picchiare da quello là? Posso essere utile? Un inguaribile romantico Io non ho mai tradito una ragazza in vita mia Io le lascio prima, le lascio a monte E nulla sarà più come prima Io non sono il tuo cameriere Non obbedisco ai tuoi ordini Lo capisci? No Le sirene stanno arrivando In prima visione assoluta Da giovedì 26 ottobre alle 21 e 25 Rai 1